Spider-Man No Way Home, finalmente arrivato nelle sale e adesso possiamo parlarne un po'. La prima cosa che voglio dirvi è che nonostante ci fossero delle aspettative altissime da parte di tantissime persone, queste non sono state disattese. Non si può neanche dire secondo me che siano state ampiamente superate, però comunque stiamo parlando di un film che è riuscito ad emozionare chiunque l'abbia visto. Per ora niente spoiler, poi vi avviserò quando inizierò a farli. Vorrei cominciare a parlarvi di due cose che mi hanno veramente infastidito, una delle quali in realtà non è neanche un punto debole del film, ma è un problema che deriva dal trailer, dal secondo trailer che abbiamo visto. Tra i vari pareri sul web non mi pare che qualcuno si sia lamentato di questa cosa, ma porca miseria, quel trailer era veramente tutto il film, ci ha raccontato tutto il film in due minuti. Ogni cosa che c'era in quel trailer poi all'interno del film l'abbiamo rivista e quindi capivamo in quali momenti sarebbero successe quelle determinate cose. Poi nella parte spoiler vi dirò effettivamente cosa mi ha infastidito del trailer che poi abbiamo rivisto nel film. L'altra cosa che ho odiato di Spider-Man Way Home, che però poi sono riuscito a giustificare, considerando quello che abbiamo visto dopo, è assolutamente il pretesto della trama, ciò che dà il via a tutti gli eventi. Questa cosa era già presente nel trailer, cioè l'incantesimo che fa Doctor Strange per far dimenticare a tutti chi è Spider-Man, però diciamo che nel film aggiungono qualche dettaglio e quei pochi dettagli che aggiungono mi hanno irritato ancora di più. Ma il motivo per cui questa causa scatenante di tutta la trama mi ha lasciato veramente così è perché semplicemente quello che vediamo dopo dovrebbe essere, ed effettivamente nella seconda parte lo è davvero, molto profondo, ricco di tematiche importanti. È sicuramente il capitolo di questo Spider-Man di Tom Holland più cupo, drammatico, e soprattutto da prendere sul serio. E parlando proprio di serietà, un'altra cosa che non mi è andata giù è proprio il tono generale che c'è stato nel film, soprattutto nella prima parte, perché sapevamo, ed effettivamente in tutti i film di questo tipo, ci sono sempre state delle gag, delle battute comiche per smorzare i toni, però diciamo che per questo film che affronta queste tematiche in questo tipo, con alcune scene veramente che fanno venire lacrimoni, mi ha un po' spiazzato. Infatti almeno nel mio caso alcune battutine le ho trovate veramente infantili, altre ci stavano però, boh. Diciamo quindi che il punto debole di No Way Home, secondo me, è proprio la trama, che purtroppo è veramente priva di dettagli, non ha un vero e proprio sviluppo. Inizia in quel modo e di fatto non è che si vada a sviluppare più di tanto. Si tratta di un cercare di rimediare all'errore che è stato fatto nell'incantesimo, andando a catturare un po' tutti quei villain che sono arrivati. E questo non è spoiler, perché sapevamo che questi villain degli altri universi di Spider-Man sarebbero arrivati all'interno di questo di Tom Holland. Ma nonostante questo, devo dire che alla fine si perdonano tutti questi difetti, perché il film è davvero emozionante e ricco anche di colpi di scena, alcuni dei quali non sono per niente prevedibili, altri purtroppo sì, sempre per colpa di quel cazzo di trailer, ma in generale hanno sfruttato benissimo il fanservice, perché questo film è pieno di fanservice, ma un fanservice fatto bene, che ha anche una coerenza interna. Tant'è che in sala molto spesso urlavamo un po' tutti insieme, perché di fatto vedevamo delle cose che tutti quanti volevamo vedere. Devo dire che vedere questo film in sala è stata veramente una grande esperienza, lo consiglierei a tutti voi. Sicuramente rende molto di più che vederlo magari su Disney Plus fra qualche mese. Ma continuiamo adesso a parlare di punti forti, e cioè Tom Holland. Tom Holland ci ha regalato un'interpretazione di Spider-Man spettacolare, secondo me la migliore di qualsiasi film live action di Spider-Man, superiore a qualsiasi film di Andrew Garfield e anche secondo me di Maguire, per quel che riguarda proprio la sua interpretazione. È proprio un film che va a chiudere questo capitolo troppo divertente, spensierato e adolescenziale della sua vita, per diventare effettivamente una persona nuova, un vero Peter Parker. Abbiamo sempre pensato infatti che Tom Holland avesse sempre avuto un po' troppi mentori, e prima Tony Stark, e poi un po' Misterio, e adesso Doctor Strange. Di fatto rispetto allo Spider-Man di Andrew Garfield e di Tommy Maguire, non aveva mai avuto chissà che traumi, a parte la morte di Tony Stark. E invece all'interno di questo film, soprattutto a causa di un colpo di scena che ci traverso la metà del film, finalmente Peter inizierà a cambiare, e a maturare tantissimo fino alla fine, che secondo me è veramente spettacolare. Il finale di questo film l'ho adorato. Un'altra questione molto interessante del film è che la questione dell'identità rivelata di Spider-Man non dura così poco come pensavamo, ma dura per buona parte del film. Tutte le ripercussioni dell'aver rivelato la sua identità si fanno sentire non poco, e anche vedere le reazioni dei vari personaggi è stato veramente divertente. Per quel che riguarda invece la questione dei villain, secondo me l'hanno trattata benissimo. Octopus secondo me è spettacolare, il mio preferito in assoluto per come l'hanno trattato, e anche Green Goblin. William Dafoe sembra non si è invecchiato di una virgola, veramente bravissimo. E fra l'altro vediamo veramente la cattiveria di Goblin all'interno di questo film, una cosa che un po' mancava nell'universo di Spider-Man, perché vediamo che Peter Parker di Tom Holland è sempre stato molto positivo ed ottimista, e invece all'interno di questo film dovrà veramente assumersi tante responsabilità, una frase che poi ritroveremo nel film anche in una maniera ancora più bella. Deve cominciare a prendere decisioni davvero importanti, e questa volta non può pensare sempre e comunque di salvare tutti. Un po' come cerca di farlo capire Doctor Strange. Doctor Strange che ho apprezzato, anche se l'ho trovato un po' troppo divertente in questo film, perché anche con lui si vanno a costruire molte battute comiche. Non so perché l'hanno trattato in questo modo, visto che comunque negli altri film era sempre stato un po' più serio come personaggio, però magari potrebbe essere una cosa importante per collegarlo al film di Doctor Strange 2. Non ha un ruolo così grande come si potrebbe credere, ma comunque è stata una bella presenza. Gli altri villain come Electro, Sandman, Lizard, vengono trattati un po' meno, però comunque li mettono dentro in una maniera interessante. No Way Home è quindi il film che tutti vogliamo vedere di Spider-Man, è proprio quello che ci aspettavamo, forse per qualcuno sarà anche qualcosa in più, per qualcun altro qualcosa in meno, ma secondo me in di massima è piaciuto un po' a tutti. Purtroppo la sceneggiatura di questo film è un bel problema, aggiungiamoci anche tante forzature di cui non vi ho parlato, però ce ne sono tante, ma fortunatamente riesci a dimenticartene di queste forzature per quello che poi vai a vedere dopo. Vi ricordo anche che ci sono due scene post-credit, la seconda è molto particolare, la trovate proprio alla fine dei titoli di coda, la prima non mi è piaciuta tanto, poi ne parliamo meglio nella parte spoiler. Un'altra cosa molto bella è stato proprio il confronto che hanno avuto questi personaggi, tra vilene e vilene, anche un po' interfacciandosi al nuovo universo in cui sono arrivati, è stato veramente bellissimo vedere ogni cosa che dicevano. Per quel che riguarda le scene d'azione mi sono piaciute moltissimo, alcune veramente super super emozionanti, anche se a dirla tutta ho preferito i momenti di dialogo, di dialogo serio però rispetto alle scene d'azione. Se non avete quindi ancora visto il film, io vi consiglio di andare a farlo subito, adesso vi parlo un po' di alcune cose spoiler. Iniziamo parlando dei tre Spider-Man, che sì, ci sono nel film, ma era il segreto di Pulcinella, lo sapevamo tutti di fatto, però devo dire che il modo in cui li hanno messi dentro mi ha divertito non poco, e ha divertito un po' tutta la sala. Non sono riuscito a capire niente di quello che hanno detto Maguire e Garfield appena sono arrivati all'interno della stanza nella casa di Ned, perché hanno urlato troppo, però diciamo che si sa, questa è l'esperienza al cinema. Mi è piaciuta molto la coerenza che c'è stata con gli altri film di Spider-Man, perché loro hanno comunicato un po' a Tom Holland dopo aver perso Zia May, perché arrivano in questo momento in cui muore Zia May, cosa che non mi aspettavo sinceramente, non pensavo morisse Zia May, eppure lei rappresenta proprio lo zio Ben degli altri Spider-Man, e quindi da questo capiamo che si tratta di una origin story, e che quindi questo film, No Way Home, rappresenta la vera origin story di Spider-Man. Ciò vuol dire che dal prossimo film, perché ne hanno annunciati altri tre come sapete, vedremo finalmente un nuovo Peter Parker, la rinascita di Spider-Man. E la cosa più bella è che noi abbiamo sempre pensato che Tom fosse stato uno Spider-Man un po' troppo fortunato rispetto agli altri, e invece alla fine di questo film perde tutto, è un finale abbastanza tragico, nonostante finisca bene alla fine il film. Nessuno più si ricorda di lui, si assume una grande responsabilità, decide di cambiare completamente vita, di trasferirsi e di ricucirsi da zero il vestito. Quella cosa è bellissima ragazzi, finalmente decide di lasciare da parte la tecnologia lasciatagli da Tony Stark, per iniziare la vita da un nuovo Spider-Man da zero. La cosa che più mi è piaciuta è che abbia deciso di lasciare da parte MJ e Ned, perché di fatto è una cosa che ha assolutamente senso. Una nuova vita che rivedremo all'interno di questi nuovi film. Comunque tornando tra i Spider-Man, diciamo che Maguire è quello che fa un po' più il saggio come Spider-Man. Non l'ho trovato troppo in forma, non mi è sembrato troppo in forma rispetto a Andrew, cioè capisco che in realtà era il ruolo che volevano dargli, cioè non essere più il Peter giovane, no? Mentre Andrew comunque è ancora un po' più ragazzetto, non tanto è, però comunque sicuramente più cresciuto di Tom, ma meno di Maguire insomma, e quindi di fatto ho apprezzato molto Andrew per come si è comportato, per come ha affrontato la morte di Gwen, perché vediamo che in realtà lui non è ancora riuscito a superare quella morte, ed è bellissima ovviamente la scena in cui riesce a prendere MJ, cosa telefonatissima, e qui mi ricollego al fatto che il trailer spoilerava tutto, perché addirittura il trailer fan-made era quello, veramente avevano azzeccato tutto, tutte le posizioni di come si chiamano in Spider-Man, di come arrivava il caccio invisibile su Lizard, e addirittura della caduta di MJ che viene appunto salvata da Andrew e non da Tom. Tom è che alla fine anche in questo film deve per forza farsi aiutare dagli altri, ma capiamo comunque dalla fine stessa che adesso cambia tutto. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo poi è stata la citazione a Miles Morales, quando Electro dice ma c'è uno Spider-Man nero, sarebbe bello vedere, tutti quanti pensavano a Miles Morales, e fra l'altro, poco prima di entrare in sala, io mi sono ritrovato nel mio cinema questo poster che vi sto lasciando a schermo, e io stavo per morire dentro, perché era uno spoiler enorme, anche se per fortuna a quanto pare era fake, visto che Miles di fatto non c'è nel film, ma ci sono soltanto gli altri due, ma penso che comunque questo qua era un poster fatto fan made da qualcuno. Ci sono tante citazioni parallelismi con gli altri film di Spider-Man, è come se questo fosse la fine di qualcosa, di tutto quello che è stato creato fino ad adesso, per poi iniziare altro, però appunto con lo Spider-Man di Tom Holland e non con gli altri due, che chissà semmai avranno un nuovo film, in realtà non è che sarei troppo curioso di vederli, anche perché una cosa che mi ha fastidito nel finale è stata la non morte di Maguire, perché sarebbe stato secondo me molto più figo vedere che morisse. Invece mentre vediamo il combattimento fra Peter 1, chiamiamolo così per chi ha visto il film lo sa, e Green Goblin viene interrotto appunto da Maguire, per non far diventare questo Peter Parker lo stesso che sono diventati loro due. Questa cosa è stata molto bella, però peccato che di fatto poi quella pugnalata non sia servita a nulla. Comunque Tom ragazzi, bravissimo veramente, l'interpretazione in questo film, anche durante la morte di Zia May, mi ha fatto emozionare tantissimo e piangere per le sue espressioni, per le sue reazioni, secondo me è riuscito ad immedesimarsi tantissimo nel personaggio. Ve l'ho detto anche a Andrew, mi è piaciuto, Maguire un po' meno, però purtroppo è un problema mio che lo vedo sempre come un meme ormai. Mi ha visto anche all'inizio del film che c'è Charlie Cox, quindi ritorna Daredevil, e non capiamo bene come, forse no Kai, dico, non lo so, però comunque è stato bello vederlo. Un'altra cosa che avrei voluto tanto vedere, mi dispiace che non ci sia stata, è stato quando abbiamo visto la frattura dei vari universi alla fine del film, che viene interrotta, diciamo, subito, quando Peter decide di far dimenticare a tutti chi è. Peccato però che mi sarebbe piaciuto vedere un po' di cose a caso, magari tantissimi villain a caso, Spider-Man a caso, che saltavano fuori, proprio così, giusto da vedere per qualche secondo, per creare un po' di hype, però non fa niente. Per quanto riguarda le scene post-credit, la seconda è un trailer praticamente di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, hype estremo, lo vedrò sicuramente, sembra essere fighissimo, tra l'altro regista Sam Raimi, lo stesso dei primi Spider-Man, quindi dicono che avrà un tono più da horror, di tensione, suspense, sono super curioso di vederlo. La prima scena post-credit che vi ho detto non mi è piaciuta tanto, perché? Perché c'è Venom e non ve l'ho detto, ma in realtà a me Venom 1 non era dispiaciuto più di tanto, ma non mi è mai piaciuto il personaggio, non mi è mai piaciuto come hanno trattato né Venom né tantomeno Tom Hardy come attore che interpreta Eddie, non lo so, questi film proprio di Venom, non li voglio vedere, non è che dico siano orribili, ma non li voglio vedere all'interno di questo universo di Spider-Man, e il motivo per cui però sono felice è che, nonostante la scena non mi fosse piaciuta tanto, è che comunque loro vengono rispediti indietro, quando se ne vanno insieme agli altri, e quindi a quanto pare non li vedremo più in questo universo, per fortuna, ma vedremo un nuovo Venom, perché rimane la macchia di Venom. Questa in realtà mi sembra un po' una forzatura, perché non ho capito come mai che venga trasportato, sì, Eddie, ma non quella macchia di Venom, che comunque proveniva dall'altro mondo, pensavo che entrambe le cose dovessero tornare al loro universo, invece, non so, mi sembra un po' una forzatura, non so se avete delle spiegazioni, ok, però resta questa macchia, e questa macchia creerà un nuovo Venom, a quanto pare, che vedremo in questo universo di Spider-Man. Quindi io adesso penso che i prossimi film, a parte che il prossimo sarà secondo me bellissimo, sono super inapiti di vederlo, perché sarà l'inizio vero di Spider-Man, di questo nuovo Spider-Man più maturo, più cresciuto, che magari si scontrerà con Venom, o magari arriverà Miles Morales, che oramai hanno inserito, quindi... Quindi, ragazzi, ho apprezzato tanto Spider-Man We Home, riesco a passare sopra i vari difetti, che comunque, purtroppo, mi hanno infassilito, ma principalmente quel trailer maledetto che ha spiegato un sacco di cose, e voglio sapere la vostra opinione, detto questo, seguite i vari social, se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!